che cosa stai facendo? prova a indovinare sei venuto a trovare la mucca? no attento, così ti sparchi le ali hai ragione, meglio metterle via devo toglierla da qui ma non puoi, è troppo grande questo è il mio lavoro oh, sei uno spazzino la metterai nel camion dei rifiuti? certo che no la toglierò a modo mio ho un corno sulla testa che uso come una pala non così un corno vero e uso anche le zampe vedi, le mie zampe hanno dei denti che uso come dei rastrelli ecco fatto è grandissima come farai a trasportarla? sono molto forte dove stai andando? la porto a casa la mia famiglia mangerà per circa una settimana è disgustoso intanto grazie a me il prato resta pulito aspetta, aspetta, aspetta sei un animale con le ali, le zampe e uno strano corno sulla testa lo so chi sei tu sei lo scarabeus del corario esatto ma come hai fatto a indovinare? aspetta 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 a chi Grazie a tutti.